E' Salvatore Alborino il nuovo direttore di radiologia interventistica all'ospedale di Macerata, anzi lo sarà perché il suo incarico partirà dal 1 settembre 2018. Alborino, nell'equipe di radiologia al Torrette di Ancona, ha già lavorato a Macerata fino all'ottobre del 2016. E' lui che ha costruito, che ha realizzato questa importante unità operativa nell'area Vasta 3, ci ha lavorato per quasi 5 anni, poi chiaramente è ritornato all'ospedale Riuniti di Torrette perché i tempi di questa realizzazione a Macerata andavano più in là rispetto ai programmi, alle aspettative che magari il dottore si era prefigurato, però oggi siamo arrivati, è un successo di tutti, come dicevo prima, e il dottore avrà tutte le condizioni per poter potenziare e gestire al meglio questa importante unità operativa. E' un ottimo risultato di tutto il territorio che ci è stato concesso anche con la collaborazione e la condivisione sia della regione che della direzione dell'Asur, ma anche di tutte le altre aree Vaste chiaramente, perché noi non nasciamo sicuramente da soli. E' un bel successo soprattutto per i cittadini, per il nostro bacino d'utenza, che sono circa 300.000 persone nella provincia di Macerata, ma anche daremo supporto e risposta anche a altri territori come l'area Vasta 4 e anche l'area Vasta 5 di Ascoli. Pesarese di 56 anni, Alborino è definito un luminare nel suo campo. Stamattina, prima della presentazione ufficiale, ha anche avuto un incontro con il sindaco Carancini. L'aspettativa è quella di riprendere il lavoro interrotto e di farlo magari lievitare rispetto a quello che avevamo fatto, anche perché l'unità operativa complessa ce lo impone e quindi è un impegno molto importante che però mi accingerò a svolgere con tanto impegno e tanto entusiasmo. Una grande responsabilità perché c'è un carico di aspettative molto alto verso di me, verso la struttura, però è una sfida che accetto volentieri.